ciao a tutti amici unicornosi e bentornati sul canale oggi come vedete ci troviamo in un nuovissimo video su stumble guys e ci sta una grande e bellissima secondo me novità come prima cosa come vedete è cambiata un po fermata qua infatti al posto della parte dove dicevano premi gratuiti che stava a destra sotto il gruppo c'è finita quest'altra casella missiones che come già vi ho detto che perché io mi diverto a fare fare questa cosa prende visto che sto un po tutti i pulsanti a che cosa coincidono tutti i pulsanti di stambul guys ho cambiato la lingua poi magari probabilmente voi lo avrete in italiano io me lo sono messo in spagnolo perché mi piace molto come lingua e mi diverte vedere tutta roba in un'altra lingua ecco missiones sono le missioni perché se ci pensate molti giochi hanno le missioni ma stambul guys no se ci andiamo cliccare ci da appunto l'obiettivo della settimana e le missioni giornaliere qua come vedete ci sta missioni giornaliere missiones di arias sarebbero giornaliere dice che l'obiettivo settimanale l'ho completato perché praticamente con le missioni poi dopo si completa l'obiettivo settimanale che praticamente in una settimana bisogna ottenere tutti questi premi completando le varie missioni giornaliere che ve ne dà tre al giorno praticamente poi in piano avanti e si ottengono tutti questi premi 75 stelline 15 gemme 100 stelline 20 gemme 125 stelline 25 gemme e poi una skin che è davvero 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 carina lo dog che ora se volete ve lo faccio anche vedere è una skin leggendaria eccola non so perché a me mi è arrivato questo bug che praticamente come vedete ci stanno dei rettangoli bianchi al posto delle immagini delle skin non so perché alcune sono scoperte altre non lo so perché ha fatto un attimo bug vabbè comunque questa qua sap doc sub doc non so come si lega che appunto uno dog che poi mi fa ridere che come baffi a il ketchup però come vedete io ora sto usando questa qua che è la sirena che è mitica aspettate che ve la faccio vedere ecco per quando mi caricano le skin non lo so perché beh perché infatti una delle più grandi novità che era già stata di tipo un aggiornamento fa è stata appunto questa aggiunta delle nuove della nuova rarità di skin le skin mitiche ora so perché ha un bug stumble guys non lo so il mio stumble adesso ha un attimo un bug come vedete come già detto un po di skin cedro alcune no però comunque skin mitiche sono queste qui con lo sfondo particolare questo qua pure tipo carinissimo è e io ho potuto ottenere la sirena però ora andiamo immediatamente a parlare della più grande novità per cui sto girando questo fantastico video su stumble guys allora come vedete a destra ci sta scritto da una parte tornei torneos last stambler studying l'ultimo stambler che rimane in piedi sotto c'è scritto evento e mi sa che anche voi avrete letto una parola che ci sta molto al familiare barbie perché ebbene sì per chi non lo sapesse stumble guys ha fatto una collaborazione con barbie visto che presto uscirà il film di barbie che secondo me sarà molto bello e quindi verso il 20 21 luglio esce il film di barbie e quindi stumble guys ha deciso di fare questa collaborazione che come sapete mi piace molto giocare con le barb mi piace barbie proprio in tutto in generale quindi sono felicissima di questa collaborazione allora in cosa consiste questa collaborazione allora l'evento si chiama barbie caos a malibu mi pare una roba simile e consiste nel prendere degli oggetti per poter comprare le skin di barbie mentre quest'altro evento che è accanto dal posto che ho scritto giugar che sarebbe giocare c'è scritto entrare entrare mentre quest'evento accanto barbie dream challenge è un'altra tipologia di evento fatti se andiamo se clicchiamo sulla scritta entrare vediamo questo qua praticamente ci sta come vedete qui ricompense 150 gemme e per uno di questa che è una delle nuovissime skin per la collaborazione di barbie barbie fan gui che apprende la skin iniziale mister stumble vestito diciamo dentro una scatola di barbie per ottenere questa skin bisogna prendere queste quattro altre skin di barbie quindi barbie ken barbie brooklyn e park all barbie diciamo che è una bella sfida perché costano molto ora vi faccio vedere meglio tutte le skin e dopo partiamo subito a giocare andiamo nel negozio poi una fantastica cosa che hanno fatto da un po di tempo prende che quando ci sono questi tipologie di venti dove bisogna raccogliere degli oggetti per comprare delle skin hanno fatto queste ruote dove possiamo ottenere i gettoni quindi io l'adoro questa cosa sono quella pubblicità però l'importante che ci sono perché almeno sono gratuiti è una cosa bellissima comunque vediamo le varie skin barbie poi come vedete qua ci sono varie offerte allora allora stanno un sacco di offerte di ecco qua allora bisogna raccogliere questi gettoni quindi diciamo queste b come vedete qua in alto che è una 3731 e con queste si può prendere queste note che un emote normale non è quelli speciali che fanno i gesti infatti è verde il nome delle note che dice include la nuova novità barbie smile è un emote è scritto in verde perché un emote di rarità non comune perché da poco hanno messo la rarità anche alle animazioni e gli emote non solo alle skin che costa 800 b di barbie poi abbiamo stambler leggendario quindi skin leggendaria e ken 4250 b poi stambler leggendario anche questo barbie che sarebbe brooklyn barbie brooklyn che per chi guarda ancora cartulmati di barbie o ha guardato il film di del 2021 mi pare barbie big city big dream prende citta barbie che conosce una ragazza che si chiama come lei barbie e loro si sono dati i soprannomi di barbie malibu e barbie brooklyn poi dopo oltre al film ci sta una serie barbie siamo in due dove ci sono sempre barbie malibu e barbie brooklyn quindi questa qua è barbie brooklyn poi abbiamo stambler mitico sparkle ken stambler mitico sparkle barbie che sarebbe sparkle barbie brooklyn e stambler mitico sparkle barbie quella classica poi come vedrete non ci sta la skin di barbie normale come detto ci sta solamente sparkle di barbie bionda la classica perché praticamente non si ottiene prendendola con i gettoni barbie ma giocando all'evento di appunto barbie chaos di malibu che è quello appunto per prendere i gettoni di barbie infatti qua in basso dove è scritto progresso praticamente non ho capito ancora come però giocando si va avanti e praticamente si ottengono varie ricompense in questo caso i gettoni di barbie e all'ultima ricompensa perché come vedete là c'è scritto 14 su 15 è alla 15 sia ricompensa di da gettoni di barbie e la skin di barbie non ricordo quanti gettoni di barbie però comunque da i gettoni più la skin però ora ragazzi io direi basta chiacchierare e andare immediatamente a giocare poi perché in questo evento se si va sulle info fa vedere che nel primo round sta è una nuovissima mappa di barbie che ha uno scopo molto diverso dalle solite mappe di stumble guys quindi come già detto basta chiacchierare giochiamo immediatamente eccoci la nuova mappa si chiama barbie dream dash e l'obiettivo è inviare sogni sì come vedete ci sono questi personaggi sui ombrelloni che praticamente hanno il cupcake perché hanno la nuvoletta con il cupcake perché praticamente noi dobbiamo prendere gli oggetti che ci richiedono i personaggini sull'esdraio e portarglieli allora qua ci dovrebbe stare il cupcake eccolo no sono caduta devo rifare la strada uffi oh non mi prende il pulsante ok quindi prendiamolo oh cioè l'ho preso e mi hanno spinto via vabbè speriamo di qualificarci perché poi una volta che finiscono gli ombrelloni ci si elimina e se si elimina nel numero esatto oh se si elimina nel numero esatto finisce la round ecco se no ci sta un altro round per esempio come vedete qua i personaggi cioè qua le altre persone che stanno giocando gli è partito un altro round io sono stata un po a chiacchierare quindi non mi sono qualificata vabbè come vedete se ci squalifichiamo subito al primo round purtroppo ci sono solamente 5b una volta ci dava quando c'erano questi tipi di venti perché ce ne sono stati altri dove bisognava prendere degli oggetti per comprare delle skin e te ne dava tipo 15 mi pare quando ti squalificavi al primo round invece qua purtroppo dopo qualche aggiornamento hanno deciso di darne solo 5 che secondo me sono pochissimi cioè io voglio prendere la skin di barbie brooklyn e me ne servono 6000 sono vicina perché comunque me ne mancano altri tipo 3000 però già sono molto alti i prezzi delle skin quindi secondo me non dovevano darti solamente cinque oggettoni barbie al primo round comunque ora cerchiamo di qualificarci abbiamo sempre il muffin lo vedo da quella luce fucsia poi adoro questa mappa perché prende cioè è troppo barbie c'è rimausa sì anzi questo qua viola non è un camper è il set delle bambole tipo di barbie che tipo ricordo che tipo vendevano roba tipo non ricordo quel set perché non ce l'ho però vendeva le roba da mangiare ecco sta barbie col camion e vendeva la roba da mangiare figo allora saranno due camper mi pare e vi faccio giro un po visto tanto ora ci dobbiamo preparare solamente che una volta che abbia restituito dobbiamo aspettare che anche altra gente restituisce quindi ancora come vedete per prendere un tipo di oggetto bisogna andare sulla barbie dream house e scendere dallo scivolo è fighissimo allora ora dobbiamo prendere la chitarra ora facciamo attenzione a questa cosa a questa cosa ok c'è attenzione pure questo no ok avevo paura che mi aveva preso ok e io direi di scendere perché tuffarsi perché diciamo perché come vedete qua la sabbia va e viene no no sono di nuovo sopra ok no ehi mi hanno risqualificata cioè dai non è giusto ero arrivata praticamente c'è stava castelli di sabbia soltanto il posto del posto di sabbia ero arrivata uffi vabbè dai pian piano mi riuscirò a qualificare ok ok riaccoci dobbiamo prendere di nuovo il cupcake allora cupcake sta allora poi come vedete ci sta la freccia che ci guida allora mi dice là ah sì ok perché poi tipo in questa mappa ci stanno appunto due barbie dream house quindi due case barbie quindi un po confonde poi ci stanno tipo tre punti con appunto la sabbia quindi cioè un po' confusionaria però bellissima cioè secondo me ci si butta ok allora il muffin io lo riesco a portare di sicuro e però non so se mi qualifico per proprio round però secondo me sì dai allora preparati già mi metto qua sopra così un salto l'ho risparmiato in caso che devo prendere la chitarra sì la chitarra ok ho risparmiato due salti no ecco non li ho risparmiati ecco non so se anche voi ogni tanto spingete il pulsante del salto non vi fa il salto ecco ora riscendiamo da qua speriamo stavolta di qualificarci ma spesso in questa mappa succede che si qualifica che si squalifica più gente del previsto tipo a volte mi è successo tipo su 16 se ne sono squalificati che ne sono 18 tipo allora vediamo ecco ecco questo è libero dai 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 si preparati allora io mi preparo a questo punto qua così se devo prendere ah no qualificata ecco come vedete 18 su 16 si sono squalificati in più oh ci stanno due persone qualche anno wow vediamo al secondo round che ci esce eh sì pivot push ok allora vediamo poi questo qua sul barbino non ci sta però cioè sulla mappa di barbie non ci sta però di solito ci stanno anche in giro oggettoni così tipo oltre a prendere quelli che ti dà facendo la partita eh ti escono anche tipo cioè se tipo ne prendi 4 durante la partita ti fa tipo 40 gettoni di barbie che ho tenuto perché ti sei qualificato fino alla finale ehm più 4 tipo che ne hai presi però non mi succede spesso che li prendo perché oh no sono caduta poi ci sarebbe un trick in questo punto della mappa però non è che lo so fare benissimo prende i trick sono ecco che mi pare non ve l'avevo spiegato prende i trick sono dei dei punti tipo cioè delle cose che ti aiutano a facilitarti a fare la mappa però vabbè non mi sono qualificata vabbè mi ha dato 20 gettoni di barbie perché mi sono arrivata fino al secondo round più 4 che li ho presi io ora facciamo insieme una ruota di barbie questa qua la pubblicità vediamo vediamo quanti me ne escono speriamo tanti no dai 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 no dai come avete visto mi stavano riuscire a 250 che penso era pure il massimo invece no me ne sono usciti 20 uffi vabbè dai sto a 3785 su su 6000 mi manca ancora un po' però come ho detto vabbè 3000 sono uscita a prenderne ora 3000 ne riuscirò a prendere e niente quindi ragazzi questo qua era l'aggiornamento di barbie su stumble guys spero che sia l'aggiornamento sia questo video vi sia piaciuto poi se sblocco delle skin di barbie farò di sicuro un post per farvele vedere e niente quindi spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettendo bellissimo mi piace e ci vediamo al prossimo video ciao ora prenderò sulle ricompense dell'evento la skin di barbie più 340 gettoni di barbie quindi ora andiamola a vedere non so perché mi fa questo bug ma vabbè ecco qui barbie è bellissima ora ho poco più di 6000 gettoni di barbie per prendere la skin che volevo prendere barbie brooklyn quindi andiamo immediatamente qua ci sono le varie offerte poi ecco qui tutte le skin che non ne ho presa neanche una e adesso prenderò brooklyn sono felicissima ecco qui eeeh presa qua si chiama barbie ma come ho detto si capisce benissimo dai capelli che è barbie brooklyn eeeh è bellissima cioè stupenda pure con la colana con scritto barbie quello è il top il top proprio e questi sono i capelli bellissimi che appunto fanno capire che è brooklyn e niente bellissima che è un po' Grazie a tutti.